Immagina questo. Una montagna innevata, il vento in faccia, l'emozione della pista sotto gli sci. Questo è il mondo di Sofia Goggia, un nome che risuona di velocità e precisione. A 20-18 anni, Goggia vinse la sua prima Coppa del Mondo Vittoria nello sci alpino. Ma non si è fermata qui. Vincerà ancora nel 2021, 22 e 23. Quello di Goggia non è solo un trionfo personale. È un momento storico per Italia. È la prima donna italiana a vincere quattro volte la Coppa del Mondo di sci alpino. Ogni vittoria, una testimonianza della sua tenacia e bravura. Nel mondo dello sport, Sofia Goggia è un nome che sarà ricordato. Restate sintonizzati per altre notizie affascinanti storie di sport.